amici di corse di moto è la seconda serata qui a madonna di campiglio per la festa di ducati campioni in pista e adesso siamo in compagnia di luca allora luca raccontaci un po il vostro lavoro all'interno dei gatti come attività col gatto facciamo semplicemente il trasporto delle persone quindi li portiamo al rifugio dove vanno a mangiare in particolare andremo appunto per l'evento andremo al rifugio bocca siamo sette gatti stasera quindi c'è una bella cosa allora il gatto delle negri questo in particolare monta un motore mercedes è un motore da 12.4 litri 540 di potenza volta volta coppia lavoriamo su giri molto bassi perché lavori sempre su 1.500 giga di motore diciamo vai luca all'esterno che lo sorpassiamo ed eccoci arrivati come è stata l'esperienza ti è piaciuta? come è stata l'esperienza sul gatto? eh traumatica no? come traumatica? ah trappolente correla raccontaci un po come è stata l'esperienza sul gatto ti è piaciuta? è stata lunga? è stata l'esperienza sul gatto? è stata l'esperienza sul gatto? ti è piaciuta? è venito sul gatto miagolava miagolava? saluto! grazie ciao 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 ciao